Una cosa l'ho capita, qui dentro ci si abitua a tutto, specie quando la dignità è calpestata, quando si è invasi dalla vergogna, e quando non si hanno più lacrime né fiato per dire che tu non lo sai perché sei finita qui dentro. E poi passano i giorni e le detenute che prima ti facevano terrore diventano l'unica persone che ti stanno vicino, l'unica che sono capace di una parola di conforto quando sei invasa dalla disperazione. Piano piano prendi fiducia in loro e loro la prendono in te, anche perché qua dentro bisogna capire come bisogna muoversi.